Ciao a tutti e bentornati ad Overa Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore degli Anelli LCG. Oggi andiamo a vedere, con questa nuova modalità, le migliori combo del set base. Allora, partiamo subito dalla combo più intuitiva di tutti, anche quella consigliata subito nel primo mazzo che si trova consigliato alla fine del manuale. Aragorn e Theodred. Come funziona? Aragorn non ha risposto, dopo che è stato destinato ad un'impresa, spendi una risorsa dalla sua riserva delle risorse per ripristinarlo. E Theodred dice, dopo che Theodred è stato destinato ad un'impresa, scegli un eroe destinato a quell'impresa, aggiunge una risorsa alla riserva delle risorse di quell'eroe. Quindi qui è abbastanza immediato il fatto che, se noi abbiamo nello stesso party o addirittura nello stesso mazzo Aragorn e Theodred, noi destiniamo all'impresa entrambi e poi, come specificato sul manuale, andremo ad attivare le risposte. Quindi potremo attivare la risposta di Theodred per dare una risorsa ad Aragorn e successivamente stappare Aragorn con la sua risorsa. Ricordiamoci che Theodred in realtà può dare le risorse a qualsiasi eroe destinato all'impresa, ma indubbiamente la combo Theodred-Aragorn è molto funzionale. Spostiamoci ora verso, diciamo, la carta principe delle combo del set base, che è l'attacco furtivo. Allora, l'attacco furtivo è un evento che dice, metti in gioco una carta alleato dalla tua mano, alla fine della fase, se quell'alleato è ancora in gioco, rimettilo nella tua mano. Allora, chiaramente mettere in gioco non è come giocare e questo ci aiuta in certi aspetti, soprattutto nella missione numero 3 del corset, ma in generale il wording è molto importante, perché alcuni effetti che dicono, quando l'alleato è giocato è una cosa, quando l'alleato è messo in gioco è un'altra cosa. Qual è la combo principale con l'attacco furtivo che si scopre nel corset, ma che successivamente viene utilizzata moltissimo? È quella con Gandalf. Quindi voi, pagato una risorsa viola, giocate Gandalf, che ha una risposta, che dopo che è entrato in gioco, quindi non deve essere giocato o messo in gioco, entra in gioco, per cui va benissimo, si innesca con l'attacco furtivo, scegli un effetto, trapesca 3 carte, infliggi 4 danni a un nemico in gioco o riduci di 5 la tua minaccia. Cosa dire su questa combo? Molto semplice, molto intuitiva, legalissima, super forte. Cioè, spesso si gioca il viola anche solo per avere 3 per attacco furtivo e 3 Gandalf, in modo tale che, idealmente, nell'arco di una partita, voi potreste andare a utilizzare Gandalf 6 volte, perché 3 con l'attacco furtivo e 3 pagando le sue risorse. Nota bene, per assurdo, in un turno potreste giocare Gandalf 2 volte con 2 attacchi furtivi. Lo giocate, per esempio, nella fase di impresa e fa certe cose, non so, fa 4 danni a un nemico, alla fine della fase di impresa si riprende in mano e poi andate a giocarlo anche nella fase di combattimento, dove magari, per esempio, vi abbassa la minaccia di 5 oppure vi pesca le carte e lo utilizzate anche nella fase di combattimento. Ok? Quindi, diciamo, attacco furtivo più Gandalf, combo su cui si basa buona parte della riuscita delle avventure del core 7. Poi, sempre con l'attacco furtivo, possiamo andare a giocare lo Stermina Orchi dei Lungobarbi. Questo perché? Questo è un alleato che, come abbiamo avuto modo di commentare qui, e vi lascio il link, è un po' costoso per quello che fa, però ha una risposta che dice dopo che Stermina Orchi dei Lungobarbi è entrato in gioco, infligge un danno a ogni nemico orco in gioco. Immaginatevi che siete sommersi da Goblin, come potrebbe essere benissimo in alcuni degli scenari del core 7, se giocate lo Stermina Orchi, questo entra in gioco, fa un danno a tutti e alla fine della fase, immaginiamoci di combattimento, lo riprendete in mano. Per cui può essere un ottimo modo per fare dei danni, magari lo giocate, avete precedentemente utilizzato Talin, e quindi di conseguenza Talin è entrato in gioco, o meglio, è stato destinato a un'impresa, fatto un danno ad ogni nemico, con lo Stermina Orchi li andate magari a far fuori e a finire. Quindi interessante anche questa combo. Poi che cosa abbiamo? Beh, abbiamo indubbiamente l'attacco furtivo più Beorn, questo è molto utile quando non giocate il rosso, per esempio, o anche se giocate un rosso-viola, perché che cosa succede? Che voi giocate Beorn durante la fase di combattimento, innescate la sua capacità di azione, che dice Beorn riceve più 5 fino alla fine della fase, alla fine della fase in cui hai innescato questo effetto, rimescola Beorn nel tuo mazzo, li metti di una volta per round. Qua è interessante poiché il primo giocatore va a scegliere, nella stessa finestra di azione, che è quella della fine della fase, se innescare l'attacco furtivo alla fine della fase, o innescare Beorn alla fine della fase. Tipicamente vi converrà giocare l'attacco furtivo, innescare Beorn per fargli fare un attacco cannone a 8 di forza di attacco, e poi alla fine della fase riprenderete in mano Beorn. Questo di solito è quello che, diciamo, può avere senso fare utilizzando Beorn. Poi, che altre carte possono andare bene con l'attacco furtivo? E qui cominciamo a essere un po' più raffinati. Allora, Faramir. Faramir ha un'azione che dice, esaurisci Faramir per scegliere un giocatore, ogni personaggio contro l'attacco del giocatore riceve più 1 fino alla fine della fase, più 1 forza di volontà. Allora, come si concretizza questo? Voi mandate i vostri personaggi in impresa, diciamo, dopo la fase dell'allestimento, avete chiaro se state vincendo oppure no all'impresa. Avete anche chiaro quanti segnalini progresso, per esempio, vi mancano per superare la scena o esplorare il luogo attivo o anche addirittura finire la partita. Quindi, dopo l'allestimento, prima della risoluzione dell'impresa, voi giocate l'attacco furtivo, giocate Faramir e usate la sua capacità di azione. Supponete che avete 4-5 personaggi coinvolti nell'impresa, voi andate a esaurire Faramir per scegliere un giocatore. Ogni personaggio controllato da quel giocatore riceve più 1 alla forza di volontà fino alla fine della fase. Quindi, pagate una risorsa viola, che cosa riuscite a ottenere per assurdo? Magari 4-5-6, dipende, ma un aumento notevole di forza di volontà. Quindi, la finestra in cui giocare attacco furtivo più Gandalf è dopo l'allestimento, prima della risoluzione dell'impresa, e ha una sua in dubbia utilità. Poi, che cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere, per esempio, l'esploratore dell'acquaneve. Ecco, questa è una combo che, diciamo, risulta, se vogliamo, un po' poco intuitiva. Perché mai dovrei giocare l'esploratore dell'acquaneve con l'attacco furtivo dopo la fase di allestimento? Per esempio, se vi capita le terre brune. Allora, le terre brune, come vedete, ha una minaccia di 5 e un punto, diciamo, un segnalino progresso soltanto per essere necessario, diciamo, un unico, scusate, segnalino progresso necessario per esplorare questo luogo. Quindi, supponiamo che durante la fase di impresa voi rivelate le terre brune, magari state perdendo di 4 o di 5 addirittura la vostra impresa, e quindi la minaccia vi salirebbe, voi potreste giocare l'attacco furtivo per giocare l'esploratore dell'acquaneve, mettere il segnalino progresso sulle terre brune e in questo modo andare a togliere subito dall'area di allestimento 5 minaccia. Chiaro che qua, diciamo, è molto situazionale e in linea generale usare l'attacco furtivo per l'esploratore dell'acquaneve è un piuttosto, come si può dire, strano. Però tenete presente che si può anche innescare questa possibilità. Andiamo a vederne un altro, anche questo abbastanza raffinato, che è il figlio di Arnor. Il figlio di Arnor è un alleato che dice, risposta, dopo che il figlio di Arnor è entrato in gioco, scegli un nemico nell'area di allestimento, o attalmente impegnato con un altro giocatore impegna quel nemico. Allora, perché è utile? Perché dopo che tutti i nemici hanno fatto gli attacchi, voi magari avete ancora un nemico nell'area di allestimento. Quindi, dopo gli attacchi dei nemici, prima degli attacchi vostri, voi giocate l'attacco furtivo, prendete un nemico dall'area dell'allestimento, ovviamente la fase degli attacchi dei nemici è già passata, per cui non riceverà carta ombra, ma soprattutto non attaccherà, e di conseguenza poi potete attaccarlo voi. Quindi l'utilità, questa, soprattutto penso al troll delle colline, piuttosto che altri nemici che si incontrano anche nel corset, è quella che quando c'è un nemico nell'area di allestimento, dopo la fase degli attacchi dei nemici, voi giocate l'attacco furtivo, col figlio di Arnor vi andate a ingaggiare il nemico nell'area di allestimento, e poi lo menate, fondamentalmente. Anche perché il figlio di Arnor ha comunque un 2 di forza d'attacco, quindi può contribuire insieme a un eroe anche a dare un bel valore di forza di attacco. Che cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che tutte queste carte funzionano bene con il sacrificio valoroso. Questo perché quando un alleato esce dal gioco, voi pagate una risorsa viola per pescare due carte. Quindi insomma, idealmente riuscite a fare un po' di cose, attacco furtivo per un effetto di un alleato che entra in gioco e fa qualcosa, e quando se ne va, potete usare il sacrificio valoroso. Ok, chiaramente bisogna avere le risorse per farlo, però diciamo la sfera viola è quella che in qualche modo vi aiuta con le risorse. Quindi queste qua sono un po' le combo principali dell'attacco furtivo. Andiamo a vedere un'altra carta, diciamo fondamentale del corset, che è Eowyn. E andiamo a studiare la sua abilità. L'abbiamo già identificata qua in questo video che vi lascio. Sostanzialmente dice azione, scarta una carta dalla tua mano per far ricevere più 1 di forza di volontà Eowyn fino alla fine della fase. Ogni giocatore può innescare questo effetto una volta in ogni round. Allora, perché è utile questa carta? Non solo per boostare la forza di volontà, diciamo per incrementare la forza di volontà, ma perché vi permette di giocare con la discard pile, cioè con la pila degli scarti. In che modo? Allora, immaginate che voi destinate Eowyn all'impresa, dopo la fase di allestimento, prima della fase della risoluzione dell'impresa, giocate una carta, scartate una carta nel vostro discard pile, che è un'aggiunta. Vi dà più 1 alla forza di volontà, fate il vostro turno e così via. Il turno dopo, per esempio, andate a giocare il Fabbro di Erebor. Cosa fa il Fabbro di Erebor? Il Fabbro di Erebor dice, dopo che hai giocato Fabbro di Erebor dalla tua mano, dopo che hai giocato Fabbro di Erebor, scusate, rimetti la prima aggiunta dalla cima della pila degli scarti di un giocatore nelle mani di quel giocatore. Quindi il corno di Gondor andremo a riprendercelo. Altra cosa molto interessante, per esempio, è se noi con Eowyn andiamo a scartare una carta, un alleato, per esempio la figlia del Nimrodel, che cosa possiamo fare? Utilizzare nella stessa sfera di Eowyn Ergiti e Combatti. Per cui noi come facciamo funzionare questa cosa? Supponiamo di avere un mazzo che non ha il verde, ma che ha bisogno di cura e quindi mettiamo dentro la figlia del Nimrodel e vi lascio un link di un playthrough qui. Scarto la figlia del Nimrodel per dare la forza di volontà ad Eowyn e eventualmente superare o comunque insomma avere una migliore forza di volontà. Il turno successivo, con le risorse blu, Ergiti e Combatti, andrò a riprendermi la figlia del Nimrodel dalla pila degli scarti e di conseguenza giocarmela. Qual è la grande utilità di questa cosa? Che voi potete, per usare un termine a me caro, splashare colori che nel vostro mazzo non ci sono. Eowyn li butta nella pila degli scarti e voi riprendete, rigiocate grazie a Ergiti e Combatti un alleato che nel vostro mazzo non potrebbe essere giocato. Quindi combo molto utile, soprattutto in true solo quando volete giocare degli alleati di un colore diverso e non avete la possibilità di avere eroi di quel colore. Molto simile ad Eowyn, per certi versi, è il protetto da Lorien. Diciamo, le considerazioni fatte con Eowyn e anche con il fabbro di Erebor e con Ergiti e Combatti possono essere fatte col protetto da Lorien. Sfrutto la capacità, la possibilità di scartare carte dalla mia mano per dare bonus a un eroe, difesa, forza di volontà e poi utilizzo quelle carte nella mia discard pile per giocarle o riprenderle in mano. e quindi, diciamo, non solo utilizzo un'abilità della carta ma la ottimizzo andando a fare anche delle cose con la discard pile. Ok, poi possiamo muoverci, per esempio, verso Gloin. Gloin ha un'abilità che dice dopo che Gloin ha subito danni aggiunge una risorsa alla sua riserva delle risorse per ogni danno che ha appena subito. Ovviamente, se noi siamo in grado, diciamo, continuativamente grazie all'istinto di sopravvivenza di curare i danni che Gloin ha subito noi possiamo andare a rendere Gloin una macchina da generazione di risorse. Tutto questo è vero a patto che noi siamo in grado di giocarci il verde insieme e quindi la figlia del Nimro, del piuttosto che l'istinto di sopravvivenza come facciamo? O in un mazzo viola verde oppure sfruttando le abilità di Eowyn e del protetto da Lorien. Ok? Un'altra carta che è interessante da giocare su Gloin è la corazza della cittadella perché gli aumenta il pool di punti ferita per cui, diciamo, se giochiamo Gloin dobbiamo trovare un modo o di curarlo in maniera, diciamo, costante oppure di aumentare i suoi punti vita in modo tale che ogni danno che subisce magari da attacchi incontrastati Gloin più la corazza della cittadella ha un pool di 8 punti vita quindi insomma un attacco incontrastato da 2, da 3, da 4 è gestibile queste vi tramutano in risorse avere risorse vi permette di migliorare il vostro board più in fretta e quindi cercare di mettervi sopra la quest l'impresa il prima possibile parlando sempre di nani e rimanendo in famiglia la corazza della cittadella va bene anche con Gimli ovviamente questo è molto intuitivo Gimli, a differenza di Gloin, non deve essere curato cioè, semplicemente i danni che gli fate su Gimli si tramutano in forza di attacco per cui molto spesso varrà la pena prendersi degli incontrastati con Gimli per boostare la sua forza di attacco e quindi un Gimli che ha 9 punti vita e magari su 6-7 danni va ad attaccare a 2 più i danni che ha su capite bene l'enorme possibilità che questa cosa offre se ci aggiungete per esempio anche una shenanica avete probabilmente un eroe Gimli che è in grado di distruggere one-shotare qualsiasi nemico vi venga incontro se poi ci aggiungete gli eventi rossi di finta o di attacco diciamo l'evento rosso che vi permette di attaccare prima che gli nemici attaccano se voi avete un eroe che attacca 6-7-8-9 capite bene che vi risolvete gran parte della fase di combattimento sempre rimanendo nella sfera cara a Gimli nella sfera tattica un'altra combo molto semplice molto chiara è Legolas con la lama di gondolin e anche qui potete vederlo in questo video sostanzialmente Legolas già normalmente quando distrugge un nemico mette due segnalini progresso sull'impresa attuale in più se ha una lama di gondolin e attacca un orco riceve anche più uno altrimenti dopo che ha attaccato e distrutto un nemico colloca un segnalino progresso sull'impresa attuale cioè Legolas di fatto con la lama di gondolin vi va ad attaccare un nemico e contribuisce con tre forza di volontà se così possiamo dire alla vostra alla vostra impresa non durante la fase di impresa come abbiamo avuto modo di parlarne quando abbiamo visto la sfera tattica però in generale capite bene che la capacità di mettere segnalini progresso nella fase di combattimento può rivelarsi molto utile non solo potete giocare su quale delle due abilità innescare prima e questo vi permette di ottimizzare eventualmente diciamo i segnalini progresso messi sull'impresa attuale muoviamoci verso un'altra combo molto interessante che è Faramir di cui abbiamo già visto con il sempre vigile allora immaginate che voi giocate Faramir grazie all'attacco furtivo che lo tappate per dare più 4 di forza di volontà ai vostri ai vostri personaggi giocate poi il sempre vigile azione scegli e ripristina una carta alleato quindi capite bene che Faramir da più 4 lo ripristinate più 4 quindi insomma Faramir con una carta sempre vigile che ha un'utilità diciamo relativa nel pool iniziale in realtà vi trasforma Faramir in una macchina da impresa pazzesca ovviamente non è una carta da early game quanto più in là per un push finale per un come si dice una quest un'impresa particolarmente ossica da superare questo vi permette di utilizzare Faramir due volte e quindi capite bene la forte utilità e il forte vantaggio di questa di questa combo muoviamoci ora verso il nostro amico nano Talin Talin ricordatevi che quando è destinato a un'impresa infligge un danno a ogni nemico rivelato dal mazzo incontri e del modo migliore per farvi fuori lo stormo di Corvi dell'Est questo prende il danno ancora prima di attivare l'impulso per cui con Talin oltre a indebolire i nemici nell'area dell'estimento quando vengono rivelati potete anche far fuori e shottare i nemici con una vita per cui capite bene l'utilità soprattutto in multiplayer quando si vanno a rivelare tanti nemici di un personaggio come Talin che va a indebolire i nemici nell'area dell'estimento e anzi di fatto con lo stormo di Corvi vi rimuove una carta rivelazione una carta incontro quindi capite bene la vera utilità insieme a Talin ovviamente il lanciere di Gondor che cosa comporta questo? che voi fate un danno con Talin e se il vostro nemico ha due punti vita voi triggererete l'abilità del lanciere di Gondor prima che questo risolva il suo attacco perché è una risposta quindi un personaggio che attacca un nemico che attacca che ha due punti vita voi andrete a farlo fuori ancora prima fondamentalmente che questo personaggio risolva il suo attacco per esempio pensate a questa carta se gli avete fatto un danno con Talin l'altro danno potete farglielo con il lanciere di Gondor se siete fan dei danni diretti un'altra carta che può essere giocata con il lanciere di Gondor ovviamente è il colpo repentino il colpo repentino che dice dopo che un personaggio è stato dichiarato come difensore infliggi due danni al nemico attaccato attaccante scusate quindi ne abbiamo fatto uno di Talin uno del lanciere di Gondor e due del colpo repentino andiamo a far fuori qualsiasi nemico che ha forza qua che ha 4 o più di punti ferita capite bene che insomma molto interessante anche perché sono danni diretti e quindi non conta la difesa se proprio volete vi piace questa cosa quando avete più lanciere di Gondor potete giocare l'appoggio reciproco l'appoggio reciproco dice se hai un giocatore quel giocatore può dichiarare un qualsiasi numero di suoi personaggi vali di come difensori contro ogni nemico che lo attacca in questa fase questa carta tra l'altro c'è proprio la voce nel compendio delle regole che spiega come si gestiscono gli attacchi con difensori multipli per cui potete anche andarvela a vedere però sostanzialmente quando è molto utile quando potete utilizzare una schiera di lanciere di Gondor e quindi vi ricordate che abbiamo detto un danno di Talin due del picchiere quattro del colpo repentino se ci aggiungete un altro picchiere siete a 5 quindi fate fuori un nemico con danni diretti prima che questo vada a risolvere il suo attacco ok un'altra carta che andiamo a vedere è Eleanor allora Eleanor è un eroe che è molto forte il multiplayer già meno in solo che tendenzialmente rimarrà sempre stappata alla fine della fase dell'impresa perché o l'avete tappata per cancellare una perfidia oppure se non avete rivelato perfidie Eleanor rimarrà stappata come possiamo utilizzare al meglio la sua abilità per esempio con causa comune cioè eserisci un eroe che controlli per scegliere e ripristinare un eroe diverso Eleanor è stappata e magari vi stappate Aragorn magari vi stappate Legolas per fare un altro attacco con distanza quindi diciamo può essere utile avere la carta causa comune con Eleanor che quasi sicuramente non manderete in impresa e possibilmente probabilmente non si stapperà non sarà tappata poiché magari non avete rivelato una carta perfidia sempre con Eleanor e sempre nella stessa logica la volontà di ferro dopo che è viaggiato verso un luogo esaurisce un personaggio blu per collocare due segnalini di progresso su quel luogo stessa considerazione di prima Eleanor sarà stappata alla fine della fase dell'impresa andremo poi a tapparla quando viaggiamo per mettere due segnalini progresso muoviamoci verso Danair Danair ha un'abilità che dice quando attacca da solo Danair può bersagliare i nemici nell'area di allestimento quando lo fa riceve più uno perché è utile Danair beh perché allora anzitutto noi possiamo utilizzare la luce nelle tenebre azione scegli un nemico impegnato con un giocatore rimetti con il nemico nell'area di allestimento quindi semplicemente io lo vado a rimettere nell'area di allestimento e poi lo attacco con Danair la verità è che Danair è molto comodo quando grazie a carte come concilio dei Galadrim tenete bassa la vostra minaccia e con la minaccia bassa molti nemici diciamo che hanno un valore di ingaggio alto come per esempio il tiratore di goblin non vi vengono ad ingaggiare e questo fa sì che questi nemici possono essere one-shotati spesso da Danair direttamente nell'area di allestimento quindi questo è molto utile perché fondamentalmente andate a impedire che questi nemici vi ingaggiano e con Danair li potete far fuori molto semplicemente ci spostiamo verso diciamo per esempio il minatore dei coli ferrosi anche questo è molto intuitivo il minatore dei coli ferrosi rimuove una condizione quando entra in gioco per esempio nella ragnatela che dà la condizione che diciamo vi rallenta le possibilità del vostro eroe voi andate con il minatore dei coli ferrosi a cancellare questa condizione per cui questa carta tenetela quando effettivamente avete bisogno di cancellare una condizione un'altra carta che abbiamo già visto velocemente è il concilio dei galadrim perché è importante tenere bassa la vostra minaccia perché esistono carte come per esempio tempesta maligna che dice infligge un danno a ogni personaggio contratto da ogni giocatore con minaccia pari superiore a 35 oppure rivelazione della bruma insidiosa ogni luogo nell'area di allestimento riceve più uno alla minaccia fino alla fine della fase ogni giocatore con una minaccia pari superiore a 35 sceglie e scarta una carta dalla propria mano perché vi è utile perché potete evitare questi effetti non solo questi effetti vi sono anche utili per evitare il momento in cui il troll delle colline vi ingaggerà e quindi di conseguenza andrete a creare un board molto più solido con cui poi affrontarlo siamo velocemente in chiusura quando avete dei nemici particolarmente ostici come la progene di un goliant o il troll delle colline che cosa possiamo fare beh allora sostanzialmente noi possiamo usare come già detto la trappola rete o la finta quindi non disdegnate diciamo aggiunte come la trappola e le finte su quei bestioni che in qualche modo vi possono dare grande fastidio per esempio la progene di un goliant se voi la intrappolate è veramente un bel colpo infine l'ultima cosa diciamo non è una combo particolare ma può essere interessante da guardare è quando voi avete una location un luogo con alto valore di minaccia voi potete andare a giocare e sentire i segreti cioè andate a togliere la sua minaccia dall'area di allestimento soprattutto nel caso delle terre brune è molto utile perché oltre a essere molto alta quando ci viaggiate questa se ne va automaticamente quindi utilizzate sentire i segreti soltanto quando ne avete un vantaggio tangibile non giusto per avere uno o due punti in più di forza di volontà ok allora io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se c'è qualche altra combo sicuramente ce ne sono queste sono quelle che diciamo secondo me sono più interessanti più divertenti da giocare se vi piace il canale considerate di iscrivervi attivate le notifiche grazie alla prossima ciao ciao Grazie.